Ben ritrovati su Liberi Oltre le Illusioni per un'altra puntata della rubrica di approfondimento giuridico. Oggi ci addentriamo in un labirinto etico e legale che sfida le convinzioni più profonde, nostre e dei nostri ascoltatori. Parliamo infatti di maternità surrogata. Questa pratica, anzi per essere più precisi dato che è una puntata di diritto, questo contratto con il quale si affida la gestazione di un bambino a una donna diversa da colei che lo crescerà, è un prisma che riflette un po' le contraddizioni della nostra epoca. Da un lato incarna il desiderio di genitorialità, un anelito profondamente umano che travalica i limiti biologici. Dall'altro però solleva degli interrogativi scomodi sulla strumentalizzazione del corpo femminile, sul valore della vita e infine sui confini dell'autonomia individuale. In Italia la maternità surrogata è sempre stata un reato, lo è quantomeno dal 2004, e sancito dall'articolo 12 di una legge approvata, pensate un po', quasi vent'anni fa, il 19 febbraio del 2004, quando il Parlamento approvava un disegno di legge volto a disciplinare le tecniche di procreazione medicalmente assistita in un'ottica principalmente limitativa. E, questo lo diciamo come mero dato storico, si tratta di una legge promossa dall'attuale ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, che all'epoca era un semplice deputato di un partito che si chiamava Lega Nord. Poiché però il diritto insegue la realtà, e non viceversa come pure qualcuno dei nostri rappresentanti ogni tanto ritiene, il reato, l'introduzione di questo reato non ha affermato il desiderio di un figlio, che spinge molti cittadini italiani, non solo coppie omosessuali ma anche coppie eterosessuali, che non possono ricorrere alla procreazione medicalmente assistita, a oltrepassare i confini nazionali, alla ricerca di soluzioni alternative in paesi dove questa pratica, la gestazione per altri o maternità surrogata, che dir si voglia, è permessa. Un fenomeno, quello del turismo procreativo, che ha innescato un dibattito infuocato e ha spinto il legislatore a intervenire proprio una settimana fa, la legge è del 17 ottobre 2024, con una nuova norma che estende il divieto, sanzionato penalmente, anche ai casi di maternità surrogata commessa all'estero dal cittadino italiano. Ma quali sono le implicazioni di questa legge? Siamo davvero di fronte a una forma, come è stata definita durante il dibattito parlamentare, di neocolonialismo riproduttivo che meritava di essere sanzionata con la più dura delle sanzioni che l'ordinamento giuridico italiano prevede, cioè la privazione della libertà personale? O si tratta invece di una pratica che ha profili di meritevolezza, specie laddove spinta da motivi del tutto estranei allo scambio economico? Ricordiamo da questo punto di vista che il legislatore non fa alcuna distinzione. Questa pratica è reato sempre che sia o meno spinta assistita da un corrispettivo economico. E quali saranno dunque le conseguenze di questa legge? A queste e altre domande cercheremo di dare risposta oggi insieme al dottor Vincenzo Giglio, giurista di Chiara Fama, ex magistrato e acuta mente giuridica che anima il blog Terz'ultima fermata insieme all'avvocato Riccardo Oradi. Io ringrazio il dottor Vincenzo Giglio per essere qui con noi e lo ringrazio del suo tempo. Buonasera dottore, grazie di essere con noi. Buonasera a lei, grazie. Le posso chiedere un attimo di presentare un po' quello che lei fa sul blog Terz'ultima fermata insieme all'avvocato Riccardo Oradi, poi ci addentriamo nella nostra discussione, però credo che sia interessante perché è un blog che, pur essendo nato nel 2022, è diventato, diciamo, nel corso degli anni, dei pochissimi anni di vita, uno dei punti di riferimento effettivamente dei giuristi italiani. Sì, la ringrazio della domanda. Questo blog è nato da un'amicizia e anche da una condivisione di idee tra me e l'avvocato Oradi che lei ha menzionato, l'avvocato romano Riccardo Oradi. Noi il blog è un blog di diritto penale, piuttosto curioso e soprattutto se, ammesso che gli si possa riconoscere una qualche caratteristica di novità, è che intanto mescola informazione pura e semplice, che facciamo senza spocchia, perché riteniamo che intanto occorra quella, cioè l'informazione pura e semplice, senza arricchimenti, senza commenti, senza atteggiamenti presuntuosi, è la base della conoscenza e noi teniamo molto a mantenere questo primo versante del nostro impegno, perché questa sorta di alfabetizzazione primaria, perché il nostro blog non è diretto soltanto ai pratici, ai giuristi, alla gente che ha specializzazioni già consolidate, noi ci rivolgiamo a tutti. La seconda caratteristica identitaria del blog è quella di un esercizio direi abbastanza spinto della nostra libertà, del nostro intelletto, del nostro spirito critico. Ci siamo detti e ci siamo impegnati ad essere mai compiacenti, mai soggiacenti, quindi per noi nulla è dato che sia la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il legislatore, il più eminente degli accademici a dire qualcosa, abbiamo rispetto per tutti, ma ci riserviamo un nostro piccolo privilegio, quello cioè di osservare ogni cosa con spirito critico. Ecco, quindi attorno a questo, se c'è, ruota quella modesta attenzione che ci viene riservata da qualche anno a questa parte. Un'ulteriore caratteristica è che ci siamo sempre, cioè amando le parole, amando anche persino il suono delle parole, amando conoscerle e scrutarne il significato, noi non resistiamo alla tentazione di scrivere praticamente ogni giorno, quindi siamo, come si dice, per usare una formula gergale siamo sempre sul pezzo e quindi io credo che anche in questo stia una delle ragioni del seguito e dei riconoscimenti che finora ci sono stati riservati. Lei ha detto rispetto per tutti e spirito critico come, diciamo, principi cardine del blog ed è, direi, in questa ottica che io ho letto il suo recente articolo sulla maternità surrogata, sul nuovo reato di maternità surrogata commessa dall'italiano all'estero, reato che la maggioranza che lo ha approvato, ha tenuto a definire in modo icastico reato universale. Ora, io voglio chiedere a lei anzitutto se la categoria del reato universale è una categoria che i giuristi conoscono e fa parte dell'ordinamento italiano e se sì, se effettivamente questo possa definirsi un reato universale. Io sono convinto che in qualche modo ci sia qualche problema in questa definizione, però vorrei passare la parola a lei e chiederlo a lei. Sì, la ringrazio anche di questo. È un'opportunità per venire a capo di questa, così come anche di tante altre semplificazioni mediatiche così eccessive, così semplici, da avere ingenerato più, come dire, una cattiva informazione e quindi da risultare alla fine false, oggettivamente false. La prima domanda è se ci sia, se sia codificato, se sia riconosciuto l'istituto, la nozione di reato universale. No, non c'è. Cioè nel senso che non esiste una definizione normativa, una norma, una fattispecie descrittiva alla quale si possa attingere per dare una risposta in termini di diritto costituito. Ciò che normalmente si intende per reato universale è un reato perseguito dovunque, da chiunque sia commesso, in qualunque territorio e senza condizioni. Poi si potrebbero anche accompagnare eventualmente delle caratteristiche accessorie, come ad esempio l'infrescrittibilità, ma già ci allargheremmo di troppo. Quindi date queste caratteristiche, la nozione di reato universale, che è comunque una nozione, per così dire, da studiosi, da chi ama arrivare ad una definizione delle cose, lei comprende bene, si attaglia soprattutto ai reati che sostanzialmente hanno una carica di offensività la più elevata possibile, perché aggrediscono i beni ai quali normalmente, qualsiasi consesso umano, qualsiasi comunità, dovunque sia il territorio in cui è insediata, attribuisce il più alto valore. Sono quelli che hanno, la cui offesa è la più diffusiva possibile, cioè nel senso che riguarda non solo vaste comunità, ma direi addirittura l'insedela dell'umanità. Non a caso sono considerati tali i crimini contro l'umanità, che appunto sono, laddove si potesse, ammesso che sia possibile, fare una scala gerarchica delle offese, sono ovviamente posti in cima. Data questa premessa, è evidente che il reato di la fattispecie incriminatrice della maternità surrogata non ha le caratteristiche per essere considerata come tale. Non le ha perché non tutti, c'è una larga fetta di stati sovrani che non la considerano un reato, o la considerano un reato soltanto se fatta per ragioni venali, cioè ragioni mercantili, laddove invece considerano lecita la surrogazione di maternità fatta per scopi solidaristici, cioè senza la previsione di un corrispettivo, visto che lei correttamente ha parlato di una sorta di rapporto contrattuale che si instaura tra le parti finalizzate al raggiungimento dello scopo della maternità. Quindi la pena, ecco la pena nel massimo, c'è una pena detentiva unita ad una pena pecuniaria che è astronomica, ma la pena detentiva di per sé è estremamente modesta, tale da inserire il reato di cui parliamo nella fascia, non dico dei reati bagatellari, ma è molto prossimo alla linea dei contini. Quindi io credo che l'equivoco di reato universale sia nato tanto da alcune dichiarazioni non ben meditate o forse meditate però in modo strumentale, da parte di chi in qualche modo ha partecipato ai lavori che hanno accompagnato il DDL 824 e che aveva interesse alla sua approvazione. Cioè è una sorta di enfasi, di sottolineatura enfatica che serve a capire quanto, come dire, a propagandare l'idea che qui si fa sul serio, che il nostro Stato si impegna per entrare a terra per portare a termine, cioè per conseguire questo risultato a fronte di un'offesa che l'attuale sensibilità dell'attuale maggioranza politica ritiene elevata. Ma nei fatti non è così, perché il reato non è perseguibile dovunque e perché fino a prima dell'approvazione della modifica introdotta dall'articolo del decreto 824, la nostra legislazione prevedeva anche l'intriminabilità, cioè l'appartenenza alla giurisdizione italiana delle condotte di maternità surrogata commesse all'estero, ma solo previa una richiesta ministeriale. Laddove invece la verità è soltanto che è stata eliminata questa condizionalità. Ecco, quindi credo così di avere risposto. Esatto. Sì, scusi. No, 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 scusi, vado avanti, non volevo interromperla. No, 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 ma si figuri. Il senso della conversazione è appunto che siano in due a parlare, anche per evitare eccessi, come dire, i regoli. Esatto, però io vorrei agganciarmi a una cosa che lei ha detto ora. In tanti altri paesi, lo abbiamo ricordato anche in apertura, questa pratica è considerata lecita e anche meritevole di tutela. È chiaro, è chiaro che proprio nei confronti di chi per fare la maternità surrogata si reca in questi paesi dove essa è una pratica lecita che l'attuale maggioranza ha voluto approvare questa norma. Perché è chiaro che sicuramente non ha pensato a chi va a fare questa pratica in un paese dove è considerata illegale. Ecco, nel senso, giusto per ricordare un paese su tutti che è molto vicino ai nostri confini la ritiene lecita. L'Ucraina, per esempio, è un paese dove il turismo procreativo, da questo punto di vista, e i casi giurisprudenziali che si sono, peraltro, succeduti nel corso degli anni hanno sempre avuto a che fare con genitori di coppie, cioè, perdono, con genitori, quindi coppie eterosessuali o omosessuali che si recavano, per esempio, in Ucraina per fare la gestazione per altri. Domanda che io le voglio fare. Mi è sembrato molto strano, e non so se vi siano altri casi all'interno del codice penale o nella legislazione speciale penale italiana, che il legislatore italiano vada a sanzionare penalmente una condotta per proteggere dei beni giuridici, possiamo dire, che si trovano in un altro paese, per proteggere, tra virgolette, per dirla diciamo in modo che ci capiscano tutti, per proteggere delle persone, cioè delle donne, che si trovano in un altro paese e che all'interno di questo paese commettono una condotta che in quel paese è considerata completamente lecita. Quindi ho trovato questa, diciamo, questa peculiarità molto, molto, molto strana, nel senso che è davvero difficile pensare di poter incriminare una parte di una condotta che si svolge in un territorio straniero dove la condotta è considerata, diciamo, completamente lecita. Quindi mi collego a questa domanda. Questa sarà davvero, diciamo, necessario che poi alla fine i paesi collaborino e quindi sarà necessaria, diciamo, nei fatti una sorta di doppia incriminazione perché la norma abbia qualche effetto? Guardi, la sua considerazione di premessa, no, di cornici, è correttissima. È quella che fa qualunque giurista avvezzo ad analizzare i problemi, a ragionare di beni giuridici, a ragionare di scale gerarchi, valoriali, però è anche emblematica di quella che, come dire, della perdita crescente di presa del pensiero rispetto all'attività politica. Mi viene in mente, immagino la conosco anche lei, no? Una vecchia canzone che fu scritta da Cico Buarque de Hollande all'epoca della dittatura del regime brasiliano militare, che poi fu tradotta in italiano e portata al successo da Ivano Fossati. In questa, in questa, uno dei versi era dove non c'è ragione né mai ci sarà. Quindi ci affanniamo in vano, io credo, no? Sebbene non mi piaccia, come dire, sottoporre a critiche generiche comunque l'attività legislativa perché comunque merita rispetto, perché è l'attività legislativa del Parlamento del mio Paese così come del suo. Quindi non sono fra quelli che amano, come dire, affondare le critiche. Però, indubbiamente, si fatica a trovare il bandolo della matassa, no? Soprattutto la ragione di intervento, no? Non solo la ragione della criminalizzazione, ma addirittura la tendenza a fare di questa norma una norma manifesto, no? Perché è anche questo, no? Cioè anche talvolta, anzi spesso, in questi temi, si ama fare delle norme che sono puramente simboliche, no? Che consumano il loro effetto nella loro simbologia. Io credo che in questo caso siamo di fronte ad un esempio che rientra a pieno titolo in questa vasta categoria. Laddove si consideri, e quindi cominciamo a tirare fuori un dato, che mediamente, almeno secondo alcune stime empiriche che sono state di recente, come dire, portate all'attenzione dell'opinione pubblica da un articolo del Corriere della Sera, si stima che ogni anno ricorrano alla maternità surrogata all'estero, fra le 250 e le 350 coppie. Quindi stiamo parlando di un fenomeno che anche su base pluriannale è, se non marginale, ma certamente di modestissime dimensioni. Cioè, quindi non si tratta di fenomeni di massa, non si tratta di ondate da contrastare e che destino preoccupazione anche laddove si volesse fare. Dio non voglia, no? Cominciare a pensare anche alla difesa della razza. No, non è sotto attacco la nostra razza. Non lo sarà attraverso, certamente non lo sarà attraverso la maternità surrogata. Quindi io non saprei davvero cosa rispondere se non dire che sono assolutamente d'accordo con lei. non c'è alcuna ragione per la quale si riversi così tanta attenzione e peraltro in questo modo così paradossale, con una pena così modesta su un fenomeno del genere. Io credo che non ci fosse affatto bisogno, anzi che sia stato negativo, l'apporto modificativo del DDL 824, nel senso che avendo eliminato quel filtro, per così dire, di saggezza politica, di buonsenso politico ed istituzionale, che era legato alla richiesta ministeriale, la quale, peraltro, e anche questo è un segnale empirico, no? Non risulta che, lei ha detto correttamente, che la legge è in vigore dal 2004. Sono passati vent'anni. In vent'anni, presumendo che i numeri, grosso modo, siano quelli che ho citato, naturalmente con l'avvertenza che si tratta di dati empirici, non ufficiali, perché non ce ne sono, e anche questo è un tantinello curioso, no? E non è mai stata esercitata, cioè non è mai stata depositata una richiesta di procedere nei confronti di una maternità surrogata che si sia consumata all'estero come normalmente viene, posto che da noi non è possibile farlo. E quindi mi chiedo, no, eliminiamo un filtro che evidentemente, anche se in modo silente, anche per via di una regola non scritta, è stato esercitato. No, perché i casi ce ne sono. E dunque, ecco, c'è una grande sproporzione, per certi versi anche paradossale, fra l'importanza e la simbologia che si lega a questa operazione della maternità surrogata, e ciò che sono i fatti, ciò che è la realtà concreta. Ma sa cosa le dico, qui mi assumo la responsabilità anche del pensiero che faccio, però è un pensiero che in qualche modo è condiviso anche da una mia cara amica, che è Vital Bazzollini, che scrive su Domani e che ne ha parlato in un articolo di qualche giorno fa, insomma io e lei ne abbiamo parlato spesso in privato in questi giorni. Io credo che questa norma si rivolga in qualche modo soprattutto alle coppie omosessuali, nel senso che è evidentemente difficile pensare che l'ufficiale di Stato, di fronte a un certificato di nascita straniero, presentatogli da una coppia eterosessuale, possa, diciamo tra virgolette, fare storie o indagare o comunque a dire l'autorità giudiziaria per capire se effettivamente vi sia stata o meno un tipo di maternità surrogata. E chiaramente questa cosa avverrà quando davanti all'ufficiale di Stato ci andrà una coppia omosessuale. C'è anche questo aspetto che secondo me va considerato, nel senso che, vabbè, ma al di là di questo, che insomma si porrebbe peraltro in completo, insomma, in continuità con una certa visione politica che questo governo sicuramente propugna, più o meno legittimamente, non stiamo discutendo di questo, stiamo solo dicendo che questo avviene. C'è una domanda che però voglio farle. Prima abbiamo parlato della legge 40 del 2004 che istituisce il reato di maternità surrogata. Ecco, lei diceva che è una legge del 2004 che è stata smontata, direi quasi pezzo per pezzo, il divieto di maternità surrogata è forse uno dei pochi pilastri che rimangono in piedi di quella legge dalla Corte Costituzionale nel corso degli anni. Prima la fecondazione omologa, poi la fecondazione eterologa e poi tutta una serie di altri aspetti di dettaglio che quella norma, che quella legge, diciamo, hanno scalfito piano piano. Ecco, lei crede che di fronte a questo divieto posto, peraltro, to court, possano evincersi dei profili di incostituzionalità che in futuro la Corte Costituzionale possa censurare? Io so che questa è una domanda, diciamo, anche per certi versi stucchevole, però potrebbe essere un dibattito, potremmo avviare un dibattito per capire anche quello che succederà in futuro. Sì, guardi, intanto non voglio lasciare senza un qualche accompagnamento quella sua riflessione, quella che cioè il non detto nella penalizzazione e nella rincorsa anche alla penalizzazione, fra virgolette questa volta universale, della maternità surrogata, sia in qualche modo inteso, soprattutto come manovra non di accerchiamento, ma insomma di ostacolo alla filiazione da parte di, al rapporto di genitorialità da parte di coppie omosessuali. È possibile, cioè non voglio dire e non intendo dire, ne sto dicendo, che questa sensibilità sia parte del programma politico della maggioranza al governo, però è certo che in certi ambienti più retrivi della destra vi sia una sorta di intolleranza, per la verità, sempre più manifesta nei confronti di qualsiasi politica di apertura verso l'assimilazione delle unioni omogenitoriali, cioè o quantomeno, fra eterosessuali e omosessuali e della possibilità dell'apertura alla genitorialità da parte di coppie omosessuali. Quindi c'è questa ostilità, là si intende come in quegli ambienti, certamente in quegli ambienti più retrivi e più legati proprio ad una visione carica di ideologia, di vecchia ideologia. Non c'è dubbio che ci sia un'ostilità. Questa ostilità, immagino, possa per cerchi concentrici che si allargano sempre di più arrivare a lambire anche politiche istituzionali. Quindi non si può affatto escludere. La seconda domanda, o meglio, la domanda che lei mi pone è se in questo assetto, con questo assetto normativo raggiunto anche dopo questa ultima modifica che rende il reato perseguibile incondizionatamente, quindi abolendo la richiesta, il requisito, la condizione di procedibilità della richiesta ministeriale, se ci siano dei profili aperti, dubbi di costituzionalità. Beh, io direi che è piuttosto improbabile per la verità, perché abbiamo pronunce recenti della Corte Costituzionale, mi pare che ce ne sia. Io con i numeri non sono bravo e neanche con gli anni, ma mi pare che risalga al 2019. Si è affermato a chiare lettere che la maternità surrogata è una pratica il cui divieto non è affatto in Costituzionale. Mi pare di ricordare che l'argomento principale attorno al quale è ruotato il ragionamento complessivo del giudice delle leggi e della consulta e la tutela della dignità della donna. Cioè arrivare appunto a legittimare o a non vietare forme, come si dice anche qui negli ambienti più retrivi, no, ma con formule plastiche, l'utero in affitto, il turismo procreativo, secondo la Corte Costituzionale è un'offesa alla donna, alla sua dignità, perché laddove fosse consentito si ammetterebbero tipologie di donna contenitori, cioè tipologie di quella magia, se mi consente, quella splendida avventura del percorso di genitorialità e in particolare per le donne della gravidanza, no, sarebbe, questo è ciò che è detto fra le righe, sarebbe orribile laddove fosse collegata invece ad un intento mercantile, ad un intento economico, ad un puro e semplice sin all'agma contrattuale. Questa modifica di cui oggi parliamo e che è l'occasione per esserci riuniti, non lascia intatte queste cose. Come dicevo, l'unico è una modifica marginale, sebbene sia presentata come un fatto, se non epocale, ma certamente importante, che segna una tappa in un poco conto nel percorso ideologico e programmatico dell'attuale maggioranza di governo, in realtà è una modifica modesta, che riguarda esclusivamente la rimozione di quella condizione di procedibilità. Quindi non credo, almeno a mio avviso, non credo che vi siano spiragli perché l'attuale regolamentazione, né si può parlare certamente di un eccesso di pena detentiva. Un problema che invece potrebbe eventualmente sorgere per difetto di proporzionalità e il requisito della proporzionalità sta assumendo sempre maggiore importanza nella produzione della consulta, soprattutto negli ultimi anni, che è sempre maggiore attenzione per questo, potrebbe essere esclusivamente legato alla astronomica pena pecuniaria che accompagna la pena detentiva, perché per le pratiche di maternità surrogata, credo, ora controllo, è prevista una multa da 600 mila a un milione di euro. Ecco, non accorrono particolari competenze giuridiche per rilevare quello che è questione di puro buonsenso. È una pena che non sta né in cielo né in terra, che ha una valenza punitiva, in questo caso ben più punitiva della pena detentiva, che serve appunto a dare un segnale fortissimo da parte dei visti e da parte del legislatore. Grazie, grazie dottor Giglio per averci dato la sua disponibilità, il suo tempo e le sue spiegazioni che direi sono state ineccepibili. Prima di lasciare voglio solo fare un ultimo commento e un invito anche alla lettura, a tutti quelli che ci stanno ascoltando, perché pensate, prima che fosse introdotto questo reato, siamo nel 2000, nel febbraio del 2000, il 17 febbraio del 2000, un tribunale a Roma autorizza per la prima volta, si trattava di un'ordinanza cautelare X700 CPC, un medico ad effettuare una pratica di maternità surrogata che ai tempi non era affatto prevista ancora come reato. Si tratta di un'ordinanza che fece molto discutere ai tempi, addirittura finì in terza pagina sui principali quotidiani italiani, quindi si trattava davvero di una notizia che fece scalpore e addirittura la maggioranza dei tempi, eravamo sotto il governo Berlusconi se non erro, organizzò un sit-in a Montecitorio contro la giudice che aveva pronunciato questa sentenza, che peraltro era all'interno di un procedimento civile e nella quale si limitava semplicemente a rilevare che in assenza di diverse indicazioni da parte del legislatore il contratto di maternità surrogata aveva una causa lecita e anche meritevole di tutela come contratto atipico. Però è un esempio di uno scontro tra politica e magistratura che si giocò ai tempi sui diritti civili. Prima proprio di chiudere, so che non c'entra quasi nulla con l'argomento di cui stiamo parlando, ma voglio chiedere a lei che è stato anche magistrato, la preoccupa il clima di scontro tra politica e magistratura che si sta vedendo in questi giorni su un altro tema che riguarda sempre i diritti civili, ma che in qualche modo fa riflettere? Glielo chiedo sia come ex magistrato ma anche come cittadino, perché a me personalmente preoccupa parecchio questo clima. Sì, mi consenta però prima voglio dire ancora una volta di non lasciare inosservato, di non far passare così inosservato quel suo passaggio. È uno strano paese il nostro, cioè lei fissa dei dei fotogrammi, uno del 2000, poi quegli altri che abbiamo fissato nel corso di questa conversazione. Il 2004 data di approvazione della legge 40 e il 2024 data di approvazione del DDL che modifica, ma ripeto in modo direi assolutamente accessorio, la fattispecie prevista dell'articolo 12,6. E in mezzo? In mezzo che c'è stato? Perché sarebbe una discussione, anche una valutazione incompleta. No, in mezzo ci sono state sentenze plurime, sentenze della Corte Costituzionale che hanno eliminato appunto a colpi di legittimità, cioè di dichiarazioni di legittimità costituzionali, questo o quello degli aspetti più aberranti. Quelli che stridevano, stridevano alle coscienze, ancora prima che al giurista. E quindi grazie a questa opera di trasmissione degli atti di incidenti di costituzionalità da parte dei giudici ordinari e alla sensibilità via via sempre più intensa e sempre più calzante della consulta, noi adesso abbiamo una legge, un corpo normativo, quello della legge 40, che quantomeno è stato depurato dagli aspetti più aberranti. Però nel frattempo ci sono stati, e questa è la mia osservazione, governi di ogni colore, coalizioni di centro, di destra, di sinistra, variopinte, voglio dire. Ecco, come si fa allora ad attribuire all'uno piuttosto che all'altro agli animal spirits del momento? E' anche da questo che nasce la mia riflessione e la mia volontà di non dare addosso, no, all'attuale maggioranza. Perché non posso, io che ho sicuramente molti più anni di lei, non posso non registrare l'inerzia, se non voglio dire l'assenza di volontà di cambiare le cose, ma certamente l'incapacità di cambiare, l'incapacità di trovare un ubicon system all'interno di coalizioni di sinistra o di centro-sinistra, che spesso di fronte a questi temi che sono, direi, essenziali per la configurazione di una società davvero moderna e contemporanea, e soprattutto corrispondente al modello costituzionale di società aperta, ospitale, multiculturale, che disegna la nostra Costituzione, sono rimaste colpevolmente assenti. In questo, come in tanti altri aspetti che pure avrebbero meritato di essere disciplinati. E quindi anche gli inviti che la Corte Costituzionale ha più volte fatto, da ultimo proprio in forma c'è in relazione alla maternità surrogata, particolarmente sotto l'aspetto del destino dei figli, perché ci sono i figli che nascono dalla maternità surrogata e non se ne è occupato nessuno. Ha dovuto intervenire al riguardo, ovviamente stimolato dal ricorso di una coppia omogenitoriale, che veniva dalla British Columbia in Canada, pensi un po' che il turismo si è costretti a fare per soddisfare questo desiderio di genitorialità. Ma comunque, insomma, senza andare a dipanare le ragioni del ricorso, è dovuto intervenire il massimo consesso nomofilattico della Corte di Cassazione, nella specie le sezioni unite ai civili, che si sono letteralmente inventate, senza nasconderlo, una soluzione, che è quella del ricorso all'adozione in casi particolari. Perché il monito e l'invito a provvedere, che veniva dalla Corte Costituzionale, che diceva, bene, ora in un paese civile si regolano queste cose, soprattutto si regolano partendo da alcuni capisaldi. Queste creature non hanno colpa, quale che sia il pensiero e la legislazione che si voglia produrre attorno alle condotte dei loro genitori intenzionali, queste creature non hanno colpa, vanno difese, vanno tutelate, gli vanno assicurate gli stessi diritti che ha qualsiasi altra creatura innocente che si affaccia alla terra e alla vita. Non è stato così. Detto questo, e quindi concludo per non lasciare neanche senza risposta la sua ultima domanda, sì, il clima è brutto, ma non mi sorprende, nel senso che non è una novità. È da trent'anni che noi abbiamo, sia pure con fasi alterne, con maggiore o minore intensità, anche a seconda del favore sociale che aveva l'una parte o l'altra, no, e quindi del consenso che le era riservato e quindi della forza di azione che avevano, ora a favore dell'una, ora a favore dell'altra. Noi abbiamo sempre questo clima e non ce ne siamo mai liberati, non riusciamo a venirne a capo, perché ovviamente e in generale chi decide non ama essere controllato e chi controlla non ama essere ostacolato nel controllo, perché entrambe le parti sono particolarmente assertive, non sono disposte ad autocensurarsi, non sono disposte a riconoscere neanche una ragione di torto nelle loro asserzioni, nelle loro condotte, nelle loro prassi e nelle loro, in generale, nelle loro visioni. E dunque il clima è brutto, è brutto, lo vediamo ogni giorno, peggiora, con, come dire, con accuse reciproche che fanno male all'autorevolezza di uno Stato. Però è sempre stato così, ecco, non è fatto di questi giorni, non è fatto degli ultimi anni, è un fatto che ci trasciniamo da almeno tre decenni a questa parte. Grazie, grazie dottore per la sua riflessione finale e ringrazio tutti quelli che sono stati l'ascolto, l'appuntamento è alle prossime puntate, una buona serata a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Buonasera di nuovo e ancora grazie.